La smart city è un tema attuale e in questo scenario la nostra azienda sta investendo molto perché teniamo a cuore la gestione dei rifiuti e teniamo a cuore l'innovazione di questo tema. La tecnologia in questo senso è un fattore abilitante per la smart city, non è un concetto necessario ma senza la tecnologia non potremmo realizzare tutti i temi che stanno al centro del concetto di smart city. In questo caso Antea come azienda si è proposta un obiettivo principale, cioè di mettere al centro nel suo ecosistema ambientale la realizzazione di app mobile, quindi nell'ecosistema centrare tutto sulla persona, sull'utilizzatore finale, quindi abbiamo realizzato delle app mobile che consentono ai cittadini di poter essere parti attive nel concetto smart city. dietro alle tecnologie ovviamente abbiamo inserito il cloud perché è importante oggi avere app che siano sostenibili sia in termini economici sia in termini di scalabilità e di prestazioni. Questo è il mio contributo e oggi ho parlato appunto di questo che abbiamo realizzato.